Vissere in Pagliazzo, domani in trasferta contro la capolista Savoia, una squadra che avete sfruttato ben tre volte e conoscete bene. Sicuramente sulla carta è una partita proibitiva, però adesso fino al resto del campionato tutte le partite saranno proibitive, giochiamo contro la migliore, lo dicono i numeri, la migliore squadra che come punti leggevo proprio ieri è anche superiore al Napoli che gioca nella massima serie nazionale e quindi è una squadra che deve essere affrontata con il massimo rispetto, però comunque senza timore perché comunque loro hanno talmente tanto margine di vantaggio rispetto alla seconda che potremmo anche trovarli rilassati, però rilassati fino a un certo punto anche perché poi mancano sette partite alla fine del campionato e per di più domani festeggeranno la vittoria in Coppa Italia, vorranno esibire il trofeo davanti al loro pubblico, è una partita difficilissima, complicatissima, però non dobbiamo fasciarci la testa prima di affrontarli perché altrimenti sarebbe inutile andarci a giocare. Vissere, chi non ci sarà domani? Credo che allo stato attuale di Tato e Savio non siano disponibili, per il resto ci sono tutti quanti. Finalmente possiamo dire una rosa completa per affrontare una partita? Domani avrò una maggiore scelta nell'utilizzare gli uomini, anche se poi qualcuno è rimasto influenzato in settimana, non si è allenato per una decina di giorni, però comunque poter fare delle scelte è meglio come nelle altre partite e non poterle assolutamente fare. Sentendo mister Fabiano, il Savoia non avrà Galizia, De Girolamo e probabilmente anche Di Paola e Allocca, potrebbero essere assenze decisive? Ma loro hanno una rosa talmente ampia come se tu, quando parliamo della Juve in Serie A, diceva, ma quella tiene tre squadre. Allora hanno lo stesso livello, rapportando l'ecotecoria, hanno tre squadre di giocatori che comunque hanno sempre vinto nelle annate precedenti, gente abituata a determinate cose, a determinati obiettivi, abituata a giocare davanti a un numeroso pubblico, cosa che noi non siamo abituati a fare, però dobbiamo giocarci una partita perché comunque noi necessitiamo di punti.